signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale arriviamo finalmente al terzo video delle fondamenta del dungeon che avevo annunciato all'inizio di questa stagione quello sul sistema magico nella fertispecie questa settimana vedremo di introdurre l'argomento spiegarne l'importanza vedere perché inserire regole apparentemente molto rigide a qualcosa che in teoria non ha senso in realtà è un vantaggio e per farlo prenderemo un sacco di esempi dei telefilm di fantascienza dei primi anni 2000 perché sono un vecchio voglio subito cominciare col dire che il sistema magico per come lo andremo a definire in questo video e nei video sull'argomento a seguire in realtà non ha nulla a che fare con la magia o almeno non con la magia come la intendiamo normalmente nel gioco di ruolo come abbiamo visto nel video sui piani interni per la serie del d20 se non l'avete visto ve lo lascio qua su andato a recuperare anche la magia e come funzionano gli incantesimi fa parte di un buon war building in questo caso però non parleremo di quello quando si parla di sistema magico all'interno un'ambientazione si definisce quell'elemento o quegli elementi necessari per la caratterizzazione dell'ambientazione o per assolvere uno scopo specifico nella narrazione che in realtà non possono essere spiegati o giustificati ma che bisogna spiegare e giustificare lo stesso per mantenere la coerenza interna nell'ambientazione e quindi la sospensione dell'incredulità che sono un sacco di paroloni per dire che probabilmente nella vostra ambientazione voi dovrete inserire qualcosa per forza ma questa cosa non ha in realtà senso e i giocatori non devono accorgersene per capirci vediamo di fare un esempio concreto diciamo che voi state lavorando a un'ambientazione di fantascienza ora uno dei troppo più classici della fantascienza è la presenza di astronavi che possano viaggiare più veloce della luce e a voi serve nell'ambientazione un modo per cui i personaggi e i giocatori possano spostarsi da un pianeta all'altro per vivere le loro avventure quindi come fate a rendere il viaggio più veloce della luce qualcosa di verosimile all'interno della vostra ambientazione? la loro astronave forza un fascio di iperparticelle attraverso l'iperpropulsore per mantenere il rapporto tra massa e velocità mentre scivola in una regione coerente nello spazio nota come un iperspazio il reattore dell'astronave induce una reazione calibrata dai cristalli di litio che tramite l'equazione di Cochrane produce un'energia esponenziale rispetto a quella che viene introdotta in entrambi i casi per le nostre attuali conoscenze della fisica non è semplicemente possibile viaggiare più veloce della luce quindi qualunque sia la spiegazione che darete sarà comunque illogica e sbagliata fondamentalmente è molto più probabile incontrare un drago dal vivo che potesse spostare più veloce della luce potreste anche decidere che in realtà non vi serve dare alcun tipo di giustificazione sul come fa l'astronave a viaggiare più veloce della luce l'importante è che lo faccia dopo tutto ci sono altri immaginari in cui questa cosa non viene mai semplicemente spiegata che cosa succede effettivamente durante lo starburst di un leviatano o qual è esattamente il principio fisico che permette a una battle star e anche alle navi civili che la seguono di spostarsi per lunghi salti da una parte all'altra dello spazio senza vivere il tempo intermedio tutto questo perché in realtà quello che vi serve non è rendere verosimile il vostro sistema magico tramite la sua spiegazione ma quello di renderlo verosimile tramite le regole che governano il suo utilizzo anche in questo caso non stiamo parlando delle regole della meccanica del gioco ma stiamo parlando delle leggi della logica e della coerenza interna nell'ambientazione la cosa importante quando si stabilisce un sistema magico e renderlo coerente non in base alla sua giustificazione nella fiction ma in base al modo in cui viene utilizzato nella fiction non viene mai spiegato testualmente cosa succede quando il galactica attiva la sua propulsione ftl ma ci viene mostrato che occorrono calcoli molto complessi e un'idea precisa della zona di arrivo maggiore la distanza più lunghi e complessi saranno i calcoli ci viene proprio mostrato ricordate show don't tell allo stesso modo non sappiamo cosa effettivamente sia lo starbust di moya ma viene mostrato che la nave deve essere riposata e possibilmente in salute per eseguirne uno e eseguirlo è molto faticoso per cui è estremamente difficile concatenare salte in serie e in realtà esistono regole del genere anche per star trek star wars mass effect quale sia l'immaginario di fantascienza che voi preferite probabilmente ha un modo per giustificare i salti a velocità superiore a quelli della luce anche se non viene spiegato testualmente in realtà il fatto che ci si concentri molto di più sul come funziona che sul perché funziona è quello che rende verosimile la questione dopo tutto anche nel mondo reale immagino che in questo momento molti di voi stiano guardando questo video da un cellulare non so quanti di voi sanno perché un cellulare funziona o come nello specifico fa funzionare a trasmettere e ricevere dati però le regole dell'ambientazione sul cellulare sono chiare a tutti il cellulare deve essere connesso alla rete e avere la batteria carica altrimenti il video non si vede saranno proprio le regole che imporrete al vostro sistema magico all'interno del mondo di gioco a renderlo verosimile per i giocatori alcune di queste regole magari saranno state già decise per voi dall'ambientazione o dalla meccanica stessa del gioco un mago di dnd sfruttando il sistema vanciano deve memorizzare un incantesimo in uno slot libero per poterlo lanciare questo è quello che le regole del gioco definiscono potete manipolare il sistema del lancio degli incantesimi dnd finché volete fin tanto che questi elementi strutturali del gameplay rimangano invariati e questo era ancora uno degli esempi facili dopotutto se proprio volete creare la vostra campagna con un sistema di magia totalmente diverso ma utilizzando comunque uno dei sistemi di regole dnd potreste semplicemente decidere di evitare di includere la classe del mago dopotutto una squadra di avventurieri può comunque scendere a esplorare un sotterraneo anche se non si porta dietro il mago ma portandosi dietro qualche altro tipo di incantatore la cosa diventerebbe molto più problematica quando il vostro nuovo sistema magico andasse a contraddire qualcosa di intrinseco della meccanica del gioco non potete creare una campagna di vampiri in cui per i vampiri non ci sia il costante ricordo è la bestia della perdita di controllo come non potete creare una campagna in the call of tulu senza prendere in considerazione il progressivo scendere nella follia per i personaggi man mano che si attendrano nei misteri di cthulhu se questo tipo di meccanismi vanno in contrasto con l'immaginario che state creando molto probabilmente dovete cambiare sistema quelli non sono regolamenti da prendere in considerazione negli altri casi però starà a voi stabilire quali sono le regole e come renderle coerente col mondo di gioco queste regole dovrebbero esistere per dare un valore drammatico quello che succede quali siano le regole attraverso cui la vostra astronave può viaggiare più veloce della luce non dovrebbero riguardare tanto la fisica quanto il valore drammatico di quelle scene più è difficile ottenere la velocità della luce per i giocatori più queste scene avranno un valore drammatico più saranno interessanti da giocare la loro astronave non potrà andare dovunque ogni volta che vogliono ma potrà andare in luoghi specifici in cui le è concesso solo quando i giocatori avranno eseguito una determinata procedura in questo modo il sistema magico è diventato uno strumento che i giocatori possono manipolare all'interno della storia del gioco questo costringe i giocatori a ragionare su cosa vogliono fare cosa gli conviene fare e su come procurarsi gli strumenti o le conoscenze che gli servono per farlo di conseguenza avere uno scopo all'interno della storia e in più non basterà che dichiarino quello che vogliono fare per farlo magicamente succedere ma dovranno impegnarsi per ottenerlo e questi sono tutti elementi che aumentano l'attenzione dei giocatori e di conseguenza la loro gratificazione nell'ottenere quello che si erano preposti diciamo che questo era un video proprio introduttivo al concetto di sistema magico è inserire elementi fantastici all'interno dell'ambientazione scenderemo poi più nei dettagli con i video successivi tra l'altro fatemi sapere nei commenti se sono stato abbastanza chiaro se servono altre spiegazioni o se ci sono degli aspetti particolari che siete interessati a approfondire quello a cui ero veramente interessato in questo video è far capire quanto sia importante per la gestione di una campagna e quanto sia importante che abbia delle regole e delle giustificazioni che invece di rendere un elemento che confonda i giocatori lo rendano uno strumento con cui loro possano manipolare la fiction e quindi manipolare la storia detto questo adesso la parola sta a voi ditemi quali sistemi magici avete implementato per le vostre ambientazioni e come li avete fatti funzionare o se siete interessati a svilupparne uno nuovo dopo aver visto questo video come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il Master Ka e noi ci vediamo nel prossimo video ciao